Io sono disconnesso, diciamo così, da circa tre quarti d'ora nei festeggiamenti e non ho ancora i dati definitivi o semidefinitivi, però mi dicono che ci siamo e sono veramente contento. Le prime cose che vuole dire alla città? Le cose che voglio dire alla città è intanto un grazie, un grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, a questo successo, un grazie a tutti gli elettori, a tutte le persone straordinarie che ho incontrato in questa campagna elettorale. Un grazie anche a chi non mi ha votato perché comunque ha partecipato a questa competizione e ha legittimato la mia vittoria e la vittoria di Guerino. Primi cento giorni, programmi? Primi cento giorni, riapertura della rampa dell'asse attrezzato, una notte bianca per l'Aquila, un'iniziativa forte per i fratelli aquilani perché Pescara ci deve essere, ci deve essere molto di più di quanto c'è stata in queste settimane di ormai crepuscolo del centro-sinistra a Pescara. E poi tanto da fare per l'area di risulta perché credo che il primo sindaco che riuscirà a realizzare qualcosa di concreto in quell'area di risulta passerà la storia di questa città. Sono queste le prime dichiarazioni da neosindaco di Pescara di Luigi Elbone Mascia. Il capoluogo adriatico torna in mano al centro-destra e lo fa in maniera perentoria ed inequivocabile dopo i sei anni di era d'Alfonso. Si consuma dunque la rivincita dopo che lo stesso Mascia, nell'aprile 2008, era stato sconfitto al primo turno dallo stesso D'Alfonso superando di poco il 26%. Nella grande rimonta hanno inciso di certo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex sindaco ed alcuni suoi uomini di fiducia. Ha inciso la grande compattezza del centro-destra, quella che era mancata un anno fa e che ha permesso al nuovo primo cittadino di presentarsi all'appuntamento elettorale forte dell'appoggio di 10 liste. Mascia viene eletto con 39.521 preferenze pari al 54,5%. Le dieci liste portano a casa tre punti e mezzo in più, il 57,90%. La parte del Leone la fa il PDL con il 30,39%, portando tra i banchi della nuova maggioranza 14 consiglieri. Ma il grande esploat è quello della lista Pescara Futura Rialzati Abruzzo di Carlo Masci e Berardino Fiorilli, probabile vice sindaco. È la terza forza della città con il 12,96% e sei consiglieri eletti. Quindi l'Udc, 5,67%, due consiglieri. E la lista Teodoro, 4,89% e due consiglieri. Senza rappresentanti, Alleanza e Forza per Pescara ed MPA, poco al di sopra dell'1%. Al di sotto dell'1% Lega Nord, SFL, Eco e Liberal Socialisti. Lo sconfitto è il candidato di centrosinistra Marco Alessandrini, ma una riflessione va fatta, perché a fronte di 27.194 preferenze pari al 37,5%, le quattro liste che lo sostenevano hanno riportato il 34,94, quasi tre punti in meno. Insomma, i partiti tradiscono in parte Alessandrini, cui va il merito di aver accettato una sfida difficile e di aver condotto una campagna sobria. Un'esperienza che servirà in futuro. Intanto guiderà l'opposizione. Il PD prende il 20,58% e porta 9 eletti in consiglio. Al di sotto delle attese, visti i risultati del nazionale, l'Italia dei Valori, 6,78% e tre consiglieri. Un consigliere a testa per la sinistra e la lista Pescara-Città-Ponte, col 4,05% e 3,27% rispettivamente. Torna in consiglio dopo un anno di assenza il candidato a sindaco di rifondazione e attuale consigliere regionale Maurizio Acerbo, che ottiene il 3,34%. Non è di fatto per il candidato di Pescara Nuova, Ugo Zuccarini, 2,83%, per Stefano Murgo di Pescara 5 Stelle, 1,42% e per Giorgio D'Amico de La Farfalla, 0,37%. Detto già di Alessandrini Acerbo, questa è la restante nuova composizione del Consiglio Comunale di Pescara. Per il PDL, sopra le mille preferenze, il consigliere regionale Lorenzo Sospiri, il più votato, 1,151, e Marcello Antonelli. Poi in ordine di consensi, Guido Cerolini-Forlini, Roberto Renzetti, Eugenio Seccia, Massimo Filippello, la consigliere regionale Federica Chiavaroli, l'ex capogruppo in provincia di A.N., Nicola Ricotta, l'ex assessorio comunale Armando Foschi, l'ex capogruppo azzurro in provincia, Vincenzo Berghella, Vincenzo Dincecco, Renato Ragneri, Andrea Salvati e Domenico Lerri. Per Pescara Futura, il più votato è l'assessore regionale Carlo Masci, seguito da Gianni Santilli, Berardino Fiorilli, Stefano Cardelli, Amedeo Volpe e Salvatore Di Pino. Resta fuori al momento l'ex assessore Peppino Bruno, in attesa di un ripescaggio post-giunta. Per l'Udc entrano Licio Di Biase ed il presidente del Consiglio Comunale uscente, Vincenzo Dogali. Nella minoranza, fra le fila del PD, eletti quattro assessori uscenti, l'ex vice sindaco Camillo D'Angelo, Antonio Blasioli, sfiora le mille preferenze, Alberto Balducci, ben sopra le 900 preferenze, e Paola Marcheggiani. Conferme per l'ex capogruppo Moreno di Pietrantonio e altri due uomini vicini ad Alfonso, come Enzo Del Vecchio e Gianluca Fusilli. Dentro poi Giuliano Diodati e Florio Corneli, che per quattro voti supera ed esclude il presidente della provincia e consigliere comune all'uscente, Pino De Dominicis. L'ex assessore Roberto De Camillis prende l'unico seggio di Pescara Città Ponte, Giovanni Diacovo quello per la sinistra, l'Italia dei Valori sarà rappresentata da Michele Di Marco, Adelchi Sulpizio, figlio del consigliere regionale Camillo Sulpizio, e l'ex verde Fausto Dinizio.